Buonasera a tutti, benvenuti al corso sulla strategia 9924 di investire.biz, un corso davvero molto particolare che io e Enrico abbiamo voluto molto, proprio perché spiegheremo in questo corso una strategia che a nostro avviso è davvero efficace e soprattutto è una strategia che consente di fare trading con poco impegno temporale, quindi investendo poco tempo riusciremo a fare trading davvero in maniera profittevole ma soprattutto professionale. Dovrebbe esserci con me Enrico? Sì, ciao Luca, buona giornata a tutti. Ecco, di qua ben arrivato, oggi Enrico stavo appunto dicendo che sarà un corso molto interessante perché a differenza dei corsi che tendenzialmente abbiamo sempre fatto dove cercavamo di capire le dinamiche sottostanti ai mercati finanziari, in questo corso invece cercheremo di andare verso quello che è più un trading automatico, tra virgolette, dove cercheremo sostanzialmente di evitare di pensare troppo e cercheremo di farci, tra virgolette, consigliare anche dalle macchine, nel senso che come vedremo impareremo anche a programmare e poi chi non vorrà programmare anche se si tratta davvero di poche righe di codice vi daremo noi il codice già fatto da inserire nel vostro ProRealTime che appunto è il grafico che trovate nella piattaforma DG quindi insomma un corso davvero molto molto interessante, ci avete visto negli scorsi giorni essere anche abbastanza eccitati riguardo questo corso do la parola a Enrico che io vi ho spiegato un po' i motivi di questo corso, quindi ci siamo accorti che tantissime persone necessitavano di una strategia sostanzialmente che non occupasse tutta la giornata, non tutti sono fortunati come noi che facciamo questo di mestiere, di conseguenza a volte il trading bisogna incastrarlo all'interno anche della giornata lavorativa di conseguenza abbiamo ritenuto opportuno andare alla ricerca di una strategia che venisse incontro proprio alle persone che non hanno tutto il nostro tempo da dedicare al trading in verità questa strategia è saltata fuori poi mentre cercavamo dell'altro nel senso che questa strategia è saltata fuori, l'idea di questa strategia è saltata fuori proprio nel mentre in cui stavamo capendo e organizzando la costruzione del software che a brevissimo sarà disponibile per fare le previsioni di borsa quindi che sicuramente poi potrete anche integrare con questo corso do la parola a Enrico che appunto come sapete è la mente sempre dietro un po' a queste strategie di trading dascio la parola a lui così che vi possa spiegare anche un po' più nel dettaglio la teoria sottostante a questa strategia vai Enrico sì sicuramente questo poi lo vedremo nel momento in cui andremo a capire proprio come sarà come viene strutturata questo tipo di strategia però la cosa molto interessante è che per la prima volta da diverso tempo ci mettiamo a parlare di correlazione questa strategia noi l'abbiamo pensata sul mercato del forex prevalentemente quindi è una strategia che ci serve per andare a capire se ci sono delle correlazioni sul mercato del forex e proprio attraverso lo screener che utilizzeremo più avanti che ci servirà proprio per vedere appunto se ci sono delle opportunità la cosa molto bella di questa strategia è che in automatico abbiamo un sistema che ci fa vedere se ci sono delle opportunità sul mercato poi ovviamente dovremo inserire gli ordini in maniera corretta però diciamo questo semplifica molto il lavoro quindi andremo a studiare quelle che sono le correlazioni e attraverso le correlazioni riusciremo a vedere se c'è qualche strumento finanziario che si trova per così dire in ritardo quindi per qualche modo può essere utile magari andare su un altro strumento che è correlato con lo strumento appunto che ha già fatto la prima mossa per poi sfruttare i movimenti di mercato quindi un tipo di strategia molto diverso rispetto a quello che facciamo di solito ma sicuramente interessante perché ci aiuta il pro screener e questo tipo di strategia a seguire quelli che sono i movimenti di mercato vedendo appunto se magari alcuni strumenti si sono mossi in anticipo quindi ci sono degli strumenti finanziari assolutamente correlati che dovranno necessariamente probabilmente seguire il movimento delle prime coppie di valute ma non voglio svelarvi troppo perché appunto così insomma facciamo un discorso che ha un capo e una coda io partirei proprio dalle basi grazie a tutti grazie a tutti